Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria. Allora, cari signori, continuiamo a parlare di carri armati, continuiamo a parlare di guerra corazzata, continuiamo a parlare di cose grandi, grosse, pesanti e rumorose che fanno BOOM! e lo fanno anche molto, 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 molto bene. Allora, cari signori, allora, va bene, sì, lo so, pecco di infantilismo, però insomma, come dire, siamo sinceri, tutto sommato, noi maschi, noi uomini, siamo un pochino bambinoni, poi soprattutto quando si è come me, metallari attempati della vecchia scuola di una certa età. Ripeto, più rumore fa, più fragore fa, è meglio è. Allora, come ben sapete, il mio mezzo corazzato favorito della seconda guerra mondiale è sua totale e totalitaria maestà staliniana, lo ISU-152, zvero boy, l'ammazza bestie, lo scatolone corazzato, la versione cingolata e comunista dei testament, ok? Ma, insomma, c'è un altro mezzo corazzato che a me piace tantissimo, e che, come lo zvero boy, non è un carro armato vero e proprio, perché parliamo, tratto sempre dal quinto volume della seconda guerra mondiale di Arrigo Petacco, ok? Parliamo di uno dei mezzi che a me personalmente sta più simpatici, di uno dei mezzi corazzati che mi stanno più simpatici della seconda guerra mondiale, perché, adesso ve lo spiego, non è un carro armato vero e proprio, è un mezzo non convenzionale, è un mezzo meccanicamente e tatticamente estremamente interessante, perché parliamo del semovente cacciacarri M18 Hellcat, eccolo qui, eccolo qui, lo Hellcat, la strega infernale, la furia, praticamente, sì, la versione cingolata dell'F-16, del Gramman F6F della Marina, dello Hellcat, dell'aereo della Marina americana che combatteva sul Pacifico. L'M18 Hellcat, diciamo, era il vero distruttore di carri nemici dello US Army, dell'armata, insomma, dell'esercito americano. Perché? Allora, mettiamola così. Nei manuali operativi, secondo le tattiche americane, gli Sherman avevano il compito di accompagnare la fanteria. Gli Sherman erano carri per fanteria. Il compito di affrontare i carri nemici, il compito di distruggere i carri nemici, anche se non certo in dogfight, spettava ai cacciacarri, per l'appunto come questo M18 Hellcat o come il suo predecessore l'M10 Wolverine. Ovvero sia, i carri armati accompagnavano la fanteria, i cacciacarri si occupavano di cercare e stanare i carri armati, sfruttando le caratteristiche dei loro pezzi d'artiglieria, soprattutto l'eccellente 76,2 mm di provenienza inglese, il 17 libre. Allora, il semovente cacciacarri americano Hellcat, lo M18, ha rappresentato lo sviluppo più avanzato della tecnica americana in questa specifica branca dei mezzi corazzati durante la seconda guerra mondiale. Allora, fu, come ho già detto, un ulteriore sviluppo dell'idea che aveva già portato alla costruzione del precedente M10 Wolverine, che si era già dimostrato molto valido come formula. In pratica si trattò di un mezzo creato ex novo, con uno scaffo particolarmente concepito, armato inizialmente con lo stesso pezzo da 76,2 dell'M10 e successivamente con pezzi più potenti come il cannone da 90 mm o l'obice da 105,22. È da notare però che questi ultimi modelli rimasero solo dei prototipi, mentre l'M18 non solo ebbe un grande successo, ma dopo la guerra venne acquistato da numerosi eserciti che lo impiegarono per molti anni ancora, tant'è che fino agli anni 70 l'M18 Hellcat era ancora in servizio, niente meno che con l'esercito jugoslavo. Eh sì, perché insomma al comunistissimo Tito non faceva certo schifo utilizzare ottimi mezzi prodotti dai capitalisti, soprattutto quando, come dire, mamma Unione Sovietica ti avrebbe visto volentieri arso al rogo. Ma insomma, torniamo un attimo alla nascita, alla genesi dell'M18. Allora, innanzitutto va detto che l'M18 è molto probabilmente il mezzo corazzato più veloce della seconda guerra mondiale. Aveva un radiale Continental a nove cilindri da 400 cavalli che era in grado di far raggiungere al mezzo la velocità su strada, ovviamente su strada, di 72 km orari. Allora, naturalmente per ottenere questo risultato si era dovuto radicalmente cambiare il concetto costruttivo del mezzo che non era più, per fare un paragone, una pesantissima corazzatura ben protetta ma costretta dal peso delle sue stesse piastre d'acciaio alla lentezza. Era piuttosto un vero e proprio incrociatore o per meglio dire, secondo me, un cacciatorpediniere, una silurante. Ecco, un cacciatorpediniere veloce, poco corazzato, manovrabilissimo e soprattutto dotato di armi, ripeto, il 17 Libre Inglesi, probabilmente il miglior pezzo anticarro della seconda guerra mondiale, che se la gioca alla pari, se vogliamo, con il Pac-40 tedesco o con il 76,2 mm sovietico. Ripeto, sono tre armi equivalenti ma per quello che ho potuto leggere, secondo me, il 17 Libre era veramente il migliore del trio. Chiusa parentesi. Poi dopo sapete cosa succede quando si parla di questi argomenti, saltano sempre fuori i tifosi. Ripeto, la mia opinione sul 17 Libre come miglior pezzo anticarro della seconda guerra mondiale è soltanto una considerazione personale che mi sono costruito leggendo i miei tanti libri sulla seconda guerra mondiale. Quindi si tratta di una opinione personale. va bene. Allora, dicevo, era l'equivalente di un cacciatorpediniere, se vogliamo, estremamente che puntava tutto sulla manovrabilità e sulla velocità, non sulla corazzatura. E l'armamento era in grado di mettere in difficoltà e di fare molto male a qualunque mezzo corazzato tedesco. Tigre e Königstiger compreso. Ok? Allora, lo scafo del carro era costituito da piastre saldate fra di loro in maniera di avere più superfici inclinate che non costituissero le cosiddette trappole per colpi, ovvero sia una piastra corazzata inclinata, più o meno inclinata, sicuramente offre meno, offre, come dire, meno punti di appoggio per l'impatto ai proiettili, anche se meno corazzata, anche se meno spessa rispetto a una corazzatura tradizionale. Allora, dicevo, la corazzatura massima dello Hellcat era di soli 13 mm, ma il cannone da 76,2 era in grado di perforare corazze da 175 mm fino a un chilometro di distanza. E ricordiamoci che la maggior parte degli scontri carro contro carro della seconda guerra mondiale avvenivano entro un raggio di 500 metri. Se un M18 sparava col suo 76,2 a un chilometro di distanza, il carro tedesco aveva pochissimo tempo per accorgersi dove era lo Hellcat e rispondere al fuoco perché uno, due, massimo tre colpi tirati dallo Hellcat, fai secco uno, due o tre, se hai particolare fortuna, mezzi corazzati tedeschi e lo Hellcat se la filava, prima che i tedeschi si fossero resi conto di che cosa li aveva colpiti. Allora, quando ci si rese conto delle eccellenti prove che questo carro poteva offrire sul campo di battaglia e si era già agli inizi del 1944, si decise di forzare la produzione per sperimentare dal vivo l'arma e nel breve volgere di nove mesi l'industria bellica americana riuscì a costruire più di 2500 cacciacarri, più di 2500 M18, ovvero sia 277 al mese, che vennero tutti utilizzati dall'esercito degli Stati Uniti. Allora, dal punto di vista operativo, lo Hellcat fu all'altezza delle speranze che aveva suscitato, cosa non sempre scontata, siamo sinceri, e riuscì in guerra a distruggere un buon numero di carri tedeschi con perdite relativamente basse all'ora. D'altronde bisogna anche ricordare una cosa molto importante, se le macchine fanno un facile rodaggio, altrettanto non si può dire per gli uomini, perché per l'addestramento degli uomini occorre più tempo e i carristi americani non erano abituati, come i loro colleghi tedeschi, a una guerra di imboscate e agguati. Lo sapete bene, il Panther, non tanto il Panther, quanto perlomeno il Tigre e il Königstiger erano mezzi concepiti per guerra da imboscata, per guerre di imboscata. I tedeschi erano specialisti nella guerra di imboscata, gli americani no, e dovettero imparare, anche copiando dai tedeschi, le tattiche della guerra di imboscata con i cacciacarri veloci come l'OM18. Insomma, un mezzo, ripeto, che era relativamente poco protetto, perché era protetto sia no da 13 mm di corazza, praticamente niente se vogliamo, e lo scafo, anche se ben progettato le lamiere, anche se ben inclinate per offrire, come dire, una minore resistenza, insomma, una minore trappola per colpi possibile, erano pur sempre soltanto 13 mm di acciaio, e lì se un colpo ti centrava in pieno si sapeva bene che c'era poco da fare. Gli americani dovettero imparare la guerra di imboscata con i cacciacarri e ci riuscirono dannatamente bene, perché, ripeto, lo M18 Hellcat fu un eccellente cacciacarri e, ripeto ancora una volta, è una cosa che molti non sanno. Lo Sherman non era concepito per la guerra contro i carri, lo Sherman era il carro armato di supporto all'affanteria. Per combattere contro i carri armati, gli inglesi usavano anche loro i cacciacarri, ma usavano anche e soprattutto i Firefly, come imparò amaramente a sue spese Michael Wittmann, HN, e sapete bene quello che successe al Barone Nero. Sfidò in una rissa da saloon i canadesi, i canadesi che della rissa da saloon ne hanno fatto uno sport nazionale, non chiesero di meglio e con i Firefly fecero fare ciao ciao al tigre del Barone Nero. Pace all'anima sua. L'OM18 Hellcat invece era il mezzo americano che veniva usato contro i carri. Ripeto, un cacciatorpediniere più o meno, veloce, manovrabile e praticamente destinato ad una guerra di imboscate e di rapidi agguati. Rapidità, velocità e soprattutto, come dire, mira, l'uso al meglio possibile, l'uso migliore possibile che si poteva fare di quell'eccellente pezzo anticarro che era il 76,2 mm di origine inglese, il 17 Libri. Ripeto, molto probabilmente il miglior cannone anticarro della seconda guerra mondiale. E non me ne vogliono gli estimatori dei prodotti Krupp. Ripeto, l'88 vero e proprio rispetto al 17 Libri era troppo pesante e troppo poco maneggevole. Il 17 Libri era un pezzo di artiglieria eccezionale e sull'M18 Hellcat seppe farsi dannatamente valere. Insomma, M18 Hellcat, il cacciacarri, il cacciatorpediniere terrestre, una dimostrazione, come se ce ne fosse bisogno, dell'eccezionale capacità di sviluppo e di rapidità costruttiva degli Stati Uniti. Pensateci bene, 277 M18 costruiti in nove mesi. È. È. Dovrebbe bastare questo per farvi capire. E inoltre ricordiamoci una cosa, contrariamente a quello che si dice, i carristi americani non erano certo quelle pappemolle, quei cowboy, quei vaccari depravati che gli amanti della Panzerwaff descrivono, no? I carristi americani e anche i carristi inglesi e anche i carristi sovietici, soprattutto quelli del periodo finale della guerra, erano soldati, abili, capaci, coraggiosi, cazzuti e con due palle così. È. Né più e né meno come i loro tanto celebrati colleghi tedeschi. Ok? Perché credetemi, il coraggio non ce l'aveva l'esclusiva soltanto la Panzerwaff. Credetemi. Credetemi. I palle quadri ce n'erano anche dall'altra parte. E gli episodi sono tanti. Dal tigre a Cecina, in provincia di Lucca, che fu seccato da uno Sherman con 75 mm. La M8 Greyhound, l'autoblinda ruotata che con tre colpi da 37 mm nel culo stende un altro tigre. Eh! Anche quello. Anche quello. Signori, ripeto, lo M18 Hellcat fu, come dire, un grande, un grande mezzo corazzare. Un'idea, quella del cacciacarri veloce, intelligente, pratica, ben ideata, ben costruita, ben sviluppata e dannatamente ben usata. Tutto qui. Quindi, cari signori, come sempre, aspetto le vostre considerazioni. Come sempre, fatemi sapere che cosa ne pensate di nuovo. Ancora. Tanto per cambiare. Arrivederci al mio prossimo video e, soprattutto, ancora ciao!